Roberto Cagiaro, il mio maestro, alla fine del corso mi disse adesso devi studiare composizione. E io ho dato retta a Cagiaro. Goffredo Petassi è uno dei grandi compositori classici del Novecento e fu per me un maestro enorme. Quando al settimo anno dovevo andare a una classe di alta composizione c'erano due illustri insegnanti. Petassi era uno di questi. La musica è un fatto intellettuale. E mi andai a studiare le sue partiture che mi piacciono così come erano scritte. La grafia, la bellezza della grafia. Ogni unisolo non è un unisolo perché ci inventa sopra qualche cosa. Partitore che era una scuola già. Chi è decisi? Di andare da lui, da Petassi. A presto.